AI Act in poche parole, quali sono le prospettive di questo regolamento? Si tratta della prima legge al mondo che regola in maniera chiara come prevenire i rischi dell'intelligenza artificiale e aumentare le opportunità per tutte e tutti. Questo significa un'implementazione articolata che richiederà tempo e anche la necessità di collaborare con le imprese sviluppatrici e anche con coloro che utilizzeranno i sistemi. L'obiettivo del regolamento è quello di limitare gli scenari più rischiosi anche per la privacy e per la gestione delle persone. Quali sono nel dettaglio questi scenari? L'obiettivo del regolamento è prevenire situazioni come le discriminazioni nella selezione del personale, i sistemi che scartano magari le donne automaticamente quando bisogna scegliere fra un certo numero di curriculum perché hanno imparato così che bisogna escludere donne oppure il tema ad esempio della governance dei dati quando parliamo di dati molto sensibili come i dati sanitari ma poi anche la cybersicurezza quando parliamo di infrastrutture critiche. Insomma ci sono diversi ambiti e contesti concreti dove i rischi esistono ma sono gestibili se facciamo la nostra parte, ognuno nel suo ruolo nella società affinché l'intelligenza artificiale sia davvero sicura. Uno degli scenari problematici che erano emersi nell'utilizzo della generativa attuale è relativa da una parte alla privacy degli utenti e dall'altra alla tutela del copyright. Cosa si sta facendo in questo senso? Certamente l'idea di tutelare le persone dalla disinformazione tramite la trasparenza è un obiettivo del regolamento, mettere una cosiddetta etichetta invisibile che fa sì che gli strumenti di fruizione dei contenuti possano capire che si tratta di un contenuto generato da intelligenza artificiale e informare l'utente in modo da dare più conoscibilità di che cosa sia davanti, magari un deepfake come si dice. Poi la tutela del diritto d'autore sempre tramite la trasparenza, la conoscibilità quindi di quali contenuti sono stati usati per allenare i sistemi e quindi la possibilità di avere le necessarie compensazioni di fronte all'uso di contenuti che sono il frutto della creatività umana. Relativamente al mondo del lavoro invece si sta facendo qualcosa per tutelare un'eventuale sparizione di posti di lavoro appunto per via dell'IA generativa? La sostituzione di posti di lavoro sicuramente avverrà come è avvenuta con qualunque tecnologia dirompente come quella di cui parliamo. Sicuramente ci saranno lavori che miglioreranno la propria capacità di funzionare insomma di essere più produttivi, più efficienti con l'intelligenza artificiale. Altri che dovranno essere accompagnati anche nella loro trasformazione. Questo vuol dire investire nel capitale umano, sostenere le transizioni lavorative, dare anche politiche che permettano di capire meglio come distribuire il valore aggiuntivo generato. Serve creare anche su questo fiducia e servono ovviamente politiche al più ampio spettro, non bastano ovviamente solo le regole dell'AIA. Grazie a tutti. Grazie a tutti.